100% però ci sono un sacco di componenti. La componente depressione, la componente non fa per me, la componente non suona abbastanza, la componente di quando prendi due o tre no ti guardi allo specchio e dici madonna non ce la farò mai in questo settore. E fai così, inizia a piangere, inizia a deprimerti, inizia a sentirti inferiore rispetto agli altri e la cosa bella è che quando entri in questo loop e che ti senti inferiore agli altri lo sai, lo sai, perché quello che tu pensi si materializza e se tu pensi di essere inferiore agli altri, se tu pensi, ah cavolo, ho un po' di depressione addosso, non riuscirò mai in questo settore, ho visto parlare, i redattori sono bravissimi, non so. mai bravissimi, entri in questo loop e non riuscirai mai più. Quindi il consiglio che io posso darti adesso è quello di sforzarti in primis a non paragonarti mai a nessun altro, a nessun altro, perché io sono io.